Oggi è il giorno più infame nella storia della Repubblica Italiana, ma uniti e finalmente solidali e ad oltranza, questo giorno di sciopero per i lavoratori si trasforma nell'inizio del riscatto per il nostro popolo. Grazie. Uniti, libertà! Abbiamo la dignità, siamo il popolo italiano, i nostri diritti non sono in vendita. Vergogna, vergogna! Vergogna, vergogna, vergogna! Vergogna! solo perché voglio difendere il diritto al lavoro, il diritto alla libertà, i fascisti non sono qua, gli estremisti non sono qua, solo nei palazzi dove hanno provato un abominio, un abominio che non possiamo accettare senza sé e senza me, non al Green Pass. E se parliamo dell'Italia dobbiamo sapere che l'hanno eletta in certi centri oligarchici al laboratorio mondiale di tutte le sperimentazioni. Non mi crediamo più, non riconosciamo più in voi l'autorità e la riconosciamo solo sui vicequestori di Roma, non si schiglierò che ha messo la faccia per lottare contro i diritti della Costituzione su cui ha giurato. Una donna vergognosa che ricopre un seggio che non dovrebbe avere perché porta vergogna la sua storia e che è Liliana Segre che dovrebbe sparire da dov'è. Grazie. 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 Grazie.